Nel centro nord non ce n'è quasi più nessuno, credo nessuno, e nel centro sud ce ne sono, ma sono sempre in diminuzione, e c'è una tantissime, forse 50.000, non so 60.000, che vanno calcolate su cani che hanno morsicato dei familiari, quindi proprio persone che sono state morsicate da loro. Questo perché? Ma perché in questi ultimi anni è stata diffusa una cinofilia commerciale, una cinofilia che non è mirata al benessere dell'animale, o il benessere del rapporto che l'uomo con l'animale, no, è mirata a fare dei business, per fare dei business e far comprare tante cose inutili, tra l'altro molte inutili, per tenere un cane si sono dovuti raccontare, si sono fatti dei film apposta, gli americani hanno fatto tanti film apposta, si fa un lavoro sui social apposta, si mettono sul mercato dei pensieri, delle logiche che devono andare a soddisfare certe categorie di persone più deboli, facilmente illudibili, eccetera, e si è descritto il cane ormai sempre peggio quello che non lo è mai stato e non lo sarà mai, perché il cane è un animale e noi lo rispettiamo tutti quanti, li vogliamo bene, eccetera, ma volere bene vuol dire innanzitutto capire che è un animale e che tipo di animale è. Questo per dirvi che se già il dato che noi abbiamo sempre più cani registrati all'anagrefe, quindi cani padronali, è già interessante perché sono molti milioni, figuratevi quante persone hanno sempre più bisogno di assistenza, che sono 70.000 risultati a giugno, si può dire persone che sono state aggretite in gran parte dai propri cani. c'è qualcosa che non funziona, laggiù dove c'è qualcosa che non funziona, c'è bisogno guarda, ci sei tu che non funzioni, che mi vuoi mordere il telefono, guarda, adesso non la vedete, ma è lì che vuole, guarda, fatti vedere, mi vuole mangiare il telefono a tutti i costi, perché mi devo occupare anche dei problemi comportamentali delle pecore, no? adesso hanno deciso di marsicarmi le scarpe, quindi serve veramente tanta cultura cinofila, ma le persone non avranno tempo di farsi la cultura cinofila ed è il motivo che aspetteranno sempre, l'hanno sempre fatto, di essere nei guai per chiamare qualcuno. lavorerete anche sulla prevenzione, lo faccio anch'io, persone che vogliono dire, vabbè ho preso un cane, voglio che stia bene lui, voglio star bene io, ma specialmente non voglio avere guai futuri. Questo si cerca di diffondere poco, questo concetto, prima di prendere il cane informati chi è il cane, preparati un po' su chi è il cane, cerca di capire un po' di cinofilia che è la sorella gemella della zoologia, eccetera, quindi ci prendi un cane perché lo salvi da un canile, perché tu devi avere il cuore grande, perché il cane sarà tuo figlio, tuo fratello, un membro della famiglia, la più grande soddisfazione del mondo, è un angelo, guai se gli uomini non saranno mai più come i cani, adesso i cani sostituiranno gli uomini, tutto, si dice tutta sta cosa perché poi questa avventatezza nell'andare a, anche se non si hanno le condizioni ambientali, quindi si vive in appartamenti ristretti, cioè non si potrebbero prendere delle razze, ma io nel momento in cui dico, ma il cane non è un cane, è tuo fratello, quindi tuo fratello lo faresti dormire nel letto o lo terresti in qualsiasi posto della casa, si deve anche tenere il cane, questo viene diffuso per sorreggere un business, poi il cane avrà bisogno di tante attrezzature, di mangimi, quel tipo di vita che farà inappropriata come animale perché dovrà sempre vivere dentro, uscito col guinzaglio, dovrà vivere in mezzo allo smog della città, cioè ci sono tante cose che conoscete e poi si ammalerà, quindi c'è un esercito di persone a farvi cacciare un sacco di soldi, avrà bisogno di tante cose, già solo non digerirà, voi cambierete mille volte mangime, farete di tutto. Quando invece avere i cani si hanno le condizioni ambientali giuste, ma c'è da spendere pochissimo, praticamente non c'è da spendere niente, cioè semmai bisogna investire nell'istruzione per conoscere i cani, perché fondere un motore che costa tanto per fare un esempio solo perché noi non abbiamo studiato come è fatto il motore, crediamo che possiamo andare in prima di qui, non so, fare 200 km, ci hanno insegnato a cambiare le marze perché se non ce l'avessero detto noi avremmo fuso i motori. E con i cani invece fondiamo i cani, rifondiamo la testa e rifondiamo il fisico perché dei cani non solo non sappiamo nulla, ma ci illudono di che ne sappiamo, che non abbiamo bisogno di imparare niente di nuovo, ma non solo, vogliono tenerci il più ignoranti possibile perché più ignoranti siamo sui cani e più crediamo a tutte le puttanate, più spendiamo tanti soldi poi nei guai che abbiamo creato.